Ancora bentrovati, questa mattina è stata presentata la terza edizione di un progetto molto interessante avviato appunto tre anni fa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano insieme ad altri attori, insieme ad altri partner, che parla di sport, parla di giovani, ma noi invece ne parliamo con Robert Gionelli, consigliere della Fondazione. Intanto grazie di essere con noi. Grazie a voi e grazie per l'ospitalità. Dicevamo terza edizione, quindi riparte questo progetto. Intanto prima di parlare dell'edizione di quest'anno ricordiamo un pochino che cosa significa benvenuti sportivamente in prima, a chi si rivolge e qual è insomma l'obiettivo. Questo è un progetto che abbiamo varato come Fondazione di Piacenza e Vigevano tre anni fa con la collaborazione dell'ufficio scolastico provinciale dell'azienda USL. sostanzialmente è una festa dell'accoglienza che abbiamo voluto fare per i ragazzi che iniziano un nuovo percorso scolastico, quindi per i ragazzi che iniziano la prima elementare, la prima media e la prima superiore, quindi un nuovo ciclo di vita importante nel mondo dello studio attraverso lo sport, un percorso di avvicinamento dello sport, ma sport in questo caso inteso non per i suoi aspetti agonistici, ma più che altro per i suoi aspetti valoriali, quindi per la sua valenza sociale, culturale e educativa, ma soprattutto anche con l'obiettivo di diffondere tra i giovani, tra gli studenti, sani stili di vita, perché non sono soltanto delle mattinate per provare nelle varie postazioni sportive che sono state allestite dal nostro staff tecnico, ma anche incontri con i medici per parlare appunto dell'importanza dell'attività fisica e dell'attività motoria, per parlare di corrette alimentazioni, per spingere i giovani a dei comportamenti consapevoli, importanti poi che li accompagneranno nel corso della loro vita, quindi l'importanza dell'attività fisica, dell'attività motoria, insomma sono tutti quegli aspetti valoriali di cui lo sport è un po' portatore e che nel momento della scuola ovviamente sono aspetti che un po' vengono messi in secondo piano. Abbiamo voluto portarli in evidenza con questo progetto, i ragazzi facendo queste prove praticamente dimostrano quelle che sono le loro attitudini. Noi cerchiamo di capire proprio con delle postazioni particolari che sono state studiate dai nostri insegnanti di educazione fisica, le attitudini ad esempio alla resistenza, alla precisione, alla velocità, per cercare poi di raccogliere dei dati in forma ovviamente anonima che analizzati possono servire proprio per cercare di, sono messe a disposizione dei medici, quindi dell'azienda USL per studiare poi qualcosa che possa aiutare i giovani a crescere meglio. Ecco dicevamo che è la terza edizione di questo progetto e dopo tre anni verrebbe da chiedersi quali sono un pochino i risultati ottenuti insomma da questo progetto, la risposta delle scuole, dei giovani, anche perché terza edizione vuol dire che le prime due sono andate bene, di solito funziona così, quindi insomma quali sono stati finora i risultati ottenuti da questo progetto? Sì, il bilancio è positivo perché devo dire nel corso degli anni è costantemente aumentato il numero di classi, quindi complessivamente il numero di studenti. In questa terza edizione non abbiamo ancora i numeri definitivi perché inizieremo la prima prova al metà ottobre allo stadio Dordoni e alcune classi devono ancora aderire, ma saranno circa 600 complessivamente i ragazzi coinvolti tra come dicevo scuole elementari, scuole medie e scuole superiori, ma soprattutto una risposta positiva da parte del mondo della scuola che ha visto l'importanza di questa iniziativa. Grazie all'azienda USL, grazie al nostro staff tecnico, la fondazione ha messo a punto un format che è un po' unico in Italia perché come dicevo l'obiettivo non è soltanto la promozione sportiva, quindi avvicinare i giovani allo sport, ma proprio quello come dicevo di diffondere quei sani stili di vita tra i giovani, si dice sempre che per invecchiare bene bisogna iniziare da giovani, quindi se aiutiamo i nostri giovani a fare proprie questi valori, questi stili di vita, sicuramente faranno un percorso, diventeranno adulti migliori e invecchieranno meglio. Questo significa minori costi sociali a carico degli enti pubblici, significa una salute migliore, significa valori importanti, etici e culturali che vengono diffusi tra i giovani. Tra l'altro abbiamo anche sempre abbinato tutti gli anni un concorso per gli studenti che partecipavano. Questa mattina abbiamo premiato quelli della seconda edizione, avevamo chiesto di fare un articolo giornalistico proprio sull'importanza di questi sani stili di vita. Ha vinto una classe della Scuola Media del Carducci e una classe del Liceo Gioia. Abbiamo reso pubblico in questa occasione il tema del contest per questa terza edizione. Abbiamo chiesto agli studenti di formulare in un massimo di cinque parole uno slogan sull'importanza dello sport nella vita delle persone, ma di questi sani stili di vita. Perfetto, e allora complimenti ancora per questa iniziativa, per questo progetto e grazie di essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata.